Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il terzo polo sono io, lo provano i fatti. Ma quali fatti? Ma lo stai facendo un cazzo? Io ho lavorato in Ferrari, lo sai? Io non ho mai fatto un cazzo, più terzo polo di così. Va bene, non voglio ritigare, sono un moderato e non mi piace la politica urlata. Però se non la smetti ti spacco la faccia. Questo sarebbe essere moderati, vedo che... Ho detto che ti spacco la faccia, mica ho urlato. Mi hai sentito urlare. Guarda che io ero in Ferrari. Ah, in Ferrari, in tal caso. Comunque il terzo polo sono io, dai. No, il terzo polo sono io! Senti un po', e se facessimo che il terzo polo siamo tutti e due insieme? Una cosa tipo federazione, eh? Mi piace, mi piace. Un accordo elettorale tra due forze liberali-democratici. Bravo, bravo. Troviamo una ragione politica che faccia breccia nel cuore dell'elettorato. Allora, aspetta. Ce l'ho! Insieme per dare vita ad un grande polo riformista. Bella, 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 bella. Oppure insieme per stare ancora più sul cazzo al PD. Ragazzi, quando ero in Ferrari me lo dicevano che ero un leader, eh? Ah, in Ferrari. Te l'ho detto?